Siamo in antissima, nel senso che cominciamo a vedere i mughetti fioriti. Oggi è venuto a capire, il mughetto era legato alle comunioni del primo maggio. Avete presente il mughetto? Simbolo del parto del cucino. Ha subito una... Ha dovuto... è stata fatta una legge apposita perché? Perché come so, i mughetti si esageravano a raccogliere. Sti italiani! Allora sono state fatte la legge per cui non ne puoi raccogliere più. Adesso io ci raccogliere. Perché? Vabbè, sono bello anche da vedere, anche se è per raccogliere. Ci sono dei sentieri proprio praterie assoluti.